Grazie a tutti E' fondamentale nella chiusura Tiro davvero preziosissimo nel centrocampo di Mr. Gregorace E' già il ventunesimo Luciano sbaglia l'appoggio E' ancora Sendin Sendin passa in qualche modo su Luciano Ancora l'argentino Contrastato solo per un momento da ieri no Ondo E' preoccupante fortunatamente per il giocatore del Gioiosa Che rientra in questo momento in campo Ora qui una grande giocata dello Scalea Con Sendin Lascia sul posto due avversari Poi l'apertura con l'esterno destro Il traversone in aria Mercuri Audini in qualche modo Alla prossima bypass Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.